A Modena, liberata dai suoi partigiani domenica 22 aprile 1945, la sera del 23 aprile fu data notizia che era stato trovato un partigiano ucciso sconosciuto a tutti, il quale aveva in tasca soltanto un pezzo di pane. La sua fotografia fu esposta per alcuni giorni sotto il portico del collegio, nella località più centrale e più frequentata della città. Poi non se ne seppe più nulla. Questa poesia di un anonimo, appunto ispirata a questo episodio, comparve in quei giorni accanto alla fotografia dello sconosciuto. Dalle contese montagne, dalla ribelle pianura, con in tasca un pezzo di pane, a tracolla il vecchio moschetto, a liberarci. Tu sei venuto, partigiano sconosciuto. Quanto ignoto protettore non t'avevamo invocato e nei giorni del terrore sotto il gioco maledetto. solo oggio era il tuo aiuto, partigiano sconosciuto. Ma l'odio incontro ti mosse i vip della lotta aperta e camicia e bandiera rosse ti diventarono sul petto. Il tuo cuore si fermò muto, partigiano sconosciuto. E in quel terribile schianto che barcollavi e morivi, che barcollavi e morivi, oh nostro fratello santo, santo, figlio nostro benedetto. Il tuo volto l'abbiamo saputo, partigiano sconosciuto.